Siamo qui allo stand di Bayer CropShines assieme a Pietro Tagliabò, responsabile marketing dell'azienda. Ci racconti cos'è il servizio By Deer Services? Sì, il servizio By Deer Services è un servizio dedicato ad aziende agricole, contoterzisti e i nostri clienti diretti che sono prevalentemente rivenditori e consorzi agrari. Questa iniziativa è un'iniziativa dedicata a queste figure professionali nel mondo dell'agricoltura per cercare di valorizzare il prodotto agricolo. Noi puntiamo in particolar modo nel dare servizi legati a un argomento che è sempre più di attualità che è la sostenibilità e tra questi servizi uno dei servizi che riteniamo maggiormente evoluti e più sviluppati è quello di Magis che è un marchio di un percorso di sostenibilità che attualmente stiamo facendo in viticoltura e proseguiremo nel grano e nel mais e in altri cereali. Nell'ambito di tutti questi servizi che state dando al vostro target, ai vostri clienti, quali sono le ultime novità? Attualmente stiamo collaborando proprio qui in fiera con ImageLine per sviluppare un argomento che è attualmente estremamente importante che è l'uso sostenibile dell'agrofarmac e in particolar modo al piano d'azione nazionale. In merito a questo stiamo offrendo agli agricoltori ma anche ai tecnici agricoli la possibilità di soffrire di un servizio per circa un anno e mezzo di mailing all'interno del quale ci sono previsioni meteo collegate all'azienda agricola che appunto appartiene alla persona che ha fatto questa richiesta. Quanto devono pagare per avere questo servizio? Beh è una cifra molto imprenditiva, nulla, l'importante è che compilino una scheda informativa e Bayer insieme a ImageLine sta sostanzialmente offrendo questo servizio perché crediamo che sia utile sensibilizzare gli agricoltori nell'utilizzare la sostenibilità per promuovere il proprio prodotto agricolo. Grazie per la disponibilità e buona permanenza qui in fiera agricola. Grazie a voi. Grazie a voi.